In politica da sempre, con gli ideali della libertà. Dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non come una poltrona. L'unica cultura che riconosco è quella delle idee che diventano azioni. Sono cresciuto tra i profumi della mia terra. Ho scelto da che parte stare, ho scelto la politica del pari. Al buio è meglio accendere una luce che maledire l'oscurità. Vota Alfonsino Grillo al Consiglio regionale. www.alfonsinogrillo.it